Anche se non ce ne accorgiamo, nella vita di tutti i giorni veniamo in contatto con un'enorme quantità di microorganismi, batteri e aggetti atmosferici. A proteggerci c'è un vero e proprio esercito, composto dalle cellule del sistema immunitario, i globuli bianchi, che hanno due strategie di difesa. La prima si basa sull'azione delle cellule fagocite, che sono in grado di riconoscere i microbi ed eliminarli. La seconda è svolta dai linfociti, che producono anticorpi e citochine, sostanze in grado di organizzare le cellule del nostro sistema immunitario, in un esercito pronto a combattere unito. A volte il sistema immunitario trova nemici troppo forti, oppure viene ingannato. In queste situazioni si richiede l'aiuto di forze esterne, come farmaci o altri rimedi. Ma può anche succedere che il sistema immunitario esageri e si metta a combattere anche contro chi in realtà nemico non è, come nel caso delle allergie. O addirittura può mettere in atto un fuoco amico contro cellule del nostro stesso organismo, come avviene nelle malattie autoimmuni. Oggi, però, abbiamo imparato ad educare il nostro sistema immunitario per renderlo ancora più efficiente. L'abbiamo fatto con la vaccinazione, grazie alla quale abbiamo eradicato dal pianeta alcuni pericolosissimi microbi. L'abbiamo fatto con la vaccinazione, grazie a tutti. L'abbiamo fatto con la vaccinazione, grazie a tutti. Grazie a tutti.